Fa vedere? Ma Dio! Piano Paloma, piano, 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 piano Monella. La piccola Vittoria Ferragni ha vissuto un momento di gioia accanto a suo padre, ma il ritorno a casa ha portato con sé una triste scoperta. Papà non abita più lì. Seduta sola sul divano, fissava la parete con gli occhi pieni di confusione. Mamma Chiara avrebbe voluto consolarla, ma sapeva che i bambini capiscono più di quanto si creda, soprattutto durante i momenti di separazione dei genitori. La piccola Vittoria, come molti altri bambini, sta attraversando un periodo difficile, cercando di comprendere i cambiamenti che la circondano. È importante per i genitori essere presenti e confortanti durante questo periodo delicato, offrendo sostegno e amore per aiutare la piccola Vittoria a superare la sua tristezza e adattarsi alla nuova realtà familiare. Fa vedere? Ma Dio! Piano Paloma, piano, piano! Piano Monella!